Proseguono i lavori da parte di ASET nel Centro Storico di Fano, certo è che gli scavi a volte regalano belle sorprese. Seguendo questo lavoro è stato trovato un muro che probabilmente faceva parte di un abitato, di un edificio che c'era qui precedentemente, poi la soprintendenza valierà cronologia, importanza eccetera. E voi nel frattempo proseguite lungo via Arco d'Augusto? Sì proseguiamo ma lì stiamo lavorando dentro una tubatura già esistente quindi non dovrebbero esserci grossi problemi, quando ci sono appunto li mettiamo in evidenza, avvisiamo la soprintendenza e poi se ne occupano. Anche per l'eventuale chiusura dovrete aspettare l'ok da parte della soprintendenza? Sì sì dipende tutto dalla soprintendenza.